per salire il partito di sua saintezza il Pape François e il Presidente della Repubblica. Di tante culture, di tanta gente, Africa va sfruttata e questo è terribile. Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico, altrettanto schiavizzante. Così questo Paese, ampiamente depredato, non riesce a beneficiare la sufficienza delle sue immense risorse. Si è giunti al paradosso che i frutti della sua terra lo rendano straniero ai suoi abitanti. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. Questo Paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati. Meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Non possiamo abituarci al sangue che in questo Paese scorre ormai da decenni, mietendo milioni di morti all'insaputa di tanti. Si conosca quanto qui accade. I processi di pace in corso, che in coraggio con tutte le forze, siano sostenuti, coi fatti e gli impegni siano mantenuti.